Abbiamo salvato il braccio, l'abbiamo salvato, siamo pronti. Dovremmo amputare. Cosa? C'è troppo tessuto necrotico, troppa infezione. Potremmo somministrare antibiotici e lasciar guarire il moncone, ma a quel punto... Il braccio sarà morto. Chiamatemi quando si sveglia, glielo dirò io. No, non possono mollare così. Potremmo metterlo da un'altra parte, attaccarlo in un punto sano. Non dirlo a me, Topolino. Dico solo che potrebbero fare... Un reimpianto ectopico di salvataggio. Dovete mantenere vivo il braccio finché il moncone non guarirà. Sì, ma in casi come questo in cui è coinvolto il gomito... È una misura estrema, perderà mobilità, il controllo della presa... Ma avrà il braccio. Merita misure estreme. Se il braccio è ancora reimpiantabile, non potete lasciarlo morire. È mai stato fatto prima sopra il gomito? Non lo so. Si potrebbe fare. Si potrebbe reimpiantare sull'epigastrica e sulla vena comitante e dare al moncone qualche giorno per guarire. Io non l'ho mai fatto. Nemmeno io. Ma allora, dopo oggi non direte questo mai più. Vi prego, gli ho promesso che avremmo fatto tutto il possibile, tutto ciò che possiamo fare. Chiamo Shepard per informarlo. Gray, Avery, preparatevi. Cominciamo fra poco. Ecco, questo non era da Topolino.